Oggi la campanella è suonata per circa 100.000 studenti di Padova e provincia. Lieve calo di iscrizioni soprattutto nelle scuole materne ed elementari. Ancora parecchie le assenze da parte di docenti e dirigenti scolastici nonostante alcune nuove assunzioni. A salutare l'esordio degli studenti anche lo sciopero dei mezzi pubblici garantiti tuttavia nelle fasce di garanzia. Al Cornaro stamani sit-in della rete degli studenti medi contro i costi della scuola. Sono solo sei le classi invece a rientrare nella sede storica dell'Istituto Selvatico in attesa della partenza dei lavori di ristrutturazione della struttura. Mentre ad Abano gli studenti ad aspettarli nella succursale dell'Istituto Pietro d'Avano hanno trovato due nuove aule costruite in estate al posto di metà del porticato. Visio Marciana News, Padova M safestapp Source Visio Marciana News, Padova 見 qualcuna diversa Fai incontraudlli BIC Torino Socata Santa La chelera Grazie.